Chi è Di Pietro? Di Pietro, non dimentichiamoci che Di Pietro prima che alla magistratura era stato un poliziotto, efficientissimo, efficientissimo. Sono convinto che come poliziotto aveva dato delle prove eccellenti. Che cosa successe in questa fase della sua vita? Come tutti i poliziotti, lui aveva familiarità con i marivoli. I marivoli sono la materia prima dei poliziotti, è naturale. Il poliziotto vive col marivolo e solitamente intreccia con lui un sistema di relazioni che poi si trasforma in amicizia, in uno scambio di favori, eccetera, eccetera. E questo era Di Pietro che quando indossò la toga si portava appresso questo passato. Di Pietro aveva commesso delle sventatezze, più che dei reati o delle sventatezze, ma lì fu l'errore di farlo assurgere, e questo è un errore che va rimproverato al pool di mani pulite, di far assurgere un uomo che aveva nel suo passato questo bagaglio, alla parte di San Giorgio, un uomo estremamente esuberante, esuberante, pieno di calore umano, privo di controlli, una specie di cavallo brado. Però mi pare che lo stiano utilizzando male, perché per esempio Di Pietro, alla testa di un ministero, di un dicastero operativo tipo lavori pubblici, lo farebbe funzionare. Lui è un uomo operativo. Quindi non lo vede come senatore fare il lavoro di palazzo? No, nel lavoro di palazzo, lui ha il tratto troppo grossolano, troppo impulsivo, eccetera, non lo vedo. Ecco, ma lei, ripeto che lo conosceva bene, Di Pietro è un uomo fondamentalmente sincero, secondo lei, in questa missione? Sì, sincero, con poco autocontrollo. Ecco, questo è Di Pietro. 1992, questa sera, alle 21.10 in Prima TV, sulla 7.